Bus è svanito Megaman, che ti succede? Guardagli in braccio, roll! Che cosa gli sta accadendo, Glyde? Ho paura che sia stato infettato dal virus Provaci ancora, Gutsman! Liberaci da questa morsa! Che altro succede? Non possiamo neanche disconnetterli! Già, lo sospettavo Le calamite che bloccano i nostri navi sono troppo potenti I comandi non rispondono Ci resta una sola possibilità, Allen Il virus si diffonde in fretta e io non riesco a muovermi È un'emergenza, dobbiamo usare il codice extra No, è troppo pericoloso Dura pochi minuti e esaurisce tutta la tua energia L'ultima volta stava quasi per distruggerti Lo so, Allen Ma comunque non ho altra scelta, non ti pare? Sì, hai ragione Configurazione programma Avvio! Preparati, sta arrivando Megaman! Il codice extra! Chiudete il becco! Che scontese! Un bel sorriso! Non perdere tempo, presto, presto! Cambiere stile! Megaman, stile acquatico attivato! Lo stile acquatico, ma lo distruggerà, Allen Io dico di no Battleship Mega Blaster! Download! Non ci riuscirai! Togliti dalla linea del fuoco, Magus Man! La sua forza è durata poco Non riesci nemmeno a stare in piedi Figuriamoci a prendere la mira E allora combattete alla pari Elecman, lasciami andare! Coraggio, fa presto, Megaman! Ti resta solo quest'ultima occasione per distruggerlo Mira bene, cerca di colpirlo Muoviti! È pericoloso Spostati, Elecman! Non pensa solo a non sbagliare bersaglio Fa presto e non sprecare il colpo! Non preoccuparti, signore Tra poco sarà finito tutto! Va via, Elecman! Mettiti in salvo! Allontanati, tanto Magnetman verrà distrutto lo stesso! Magnetman eliminato Elecman eliminato No! L'effetto retroattivo, no! Non ero mai riuscito a battere mio fratello Gauss In un duello con effetto retroattivo Fino a oggi Addio, Elecman! E grazie! Mi dispiace, Conte Zappa Non è stata colpa tua Per merito di Elecman Tutti i nostri navi sono salvi È stato un vero eroe Megaman! Megaman! Reagisci, ti prego, Megaman! Devi svegliarti! Megaman si sta disintegrando I suoi dati non sono costanti Ehi, guardate! Un portale d'uscita! Portiamo Megaman via di qui! Torneremo a recuperare gli altri Siete d'accordo? Le porgo le mie più umili scuse, Mr. Wiley La stupida gelosia di mio fratello Ha causato la fuga di Megaman e degli altri Hai fallito La mia vita è a sua disposizione Non mi serve, Gauss Non posso più tollerare la tua inettitudine Sparisco! I posti di blocco sono tutti allertati Ma se il virus bestia l'infetta Cosa faremo? Aggiungite l'uscita, presto! Fate presto! Tutti i net operatori disconnettano i loro navi immediatamente Tutti i net operatori disconnettano i loro navi immediatamente Non vado da nessuna parte Intendo difendere il negozio di Higsby Fino al mio ultimo chip Vatten chip blaster Barriera Terremoto Satellite Non so quale scegliere Fuggite pure tutti Resterò io da solo a difendere la città Veloci Più veloci Il futuro di Net City e del mondo dipende dal nostro successo in questa operazione E da quello di Lane e dei suoi giovani amici È buffo Dalla prima volta che li ho visti ho capito che nonostante l'età quei ragazzi erano molto in gamba Per questo li ho tenuti d'occhio Perché mi sono reso conto che saranno degli ottimi agenti segreti un giorno Tant'è vero che oggi sono la nostra unica speranza di salvezza I dati di Megaman si riprogrammano a una velocità stupefacente Spero non voglia dire che l'infezione lo sta cancellando Mi augura proprio di no Non ho mai assistito a un fenomeno del genere È tutta colpa mia Sono stato io ad attivare il codice extra È stato un errore Non avevi scelta Tranquillo Len Non sei stato tu la causa Tu sei Mr. Famous, vero? In carne e ossa ragazzi Il responsabile di ciò che è accaduto è Buzz Buzz? Davvero? Il megaprogramma è stato progettato per essere indistruttibile E nel caso venga attaccato Si rigenera assorbendo i virus o gli errori del programma stesso È in questo la sua genialità È davvero incredibile La caratteristica di Buzz e del virus bestia consiste nel fondersi con i virus Già, ma questo non spiega le attuali condizioni di Megaman Quando Buzz è entrato in contatto con lui Per analizzarne la memoria Deve avergli trasmesso anche il megaprogramma Il megaprogramma a Megaman Come vedi, la situazione è seria, Len E non c'è niente da fare per riuscire a salvarlo L'infezione è molto avanzata E i danni causati al suo sistema sono estremamente gravi Ma Megaman è un netnavi valoroso che si è fatto onore nel mondo creato dal dottore Icari Quindi io farò del mio meglio per aiutarlo Mister Famous, grazie di cuore Mettiamoci al lavoro Resisti, Megaman Sono stati tutti evacuati, Sharkman? A quanto mi risulta, sì Io, Woodman e Skullman abbiamo fatto sgombrare tutti i netnavi che abbiamo trovato Se qualcuno è rimasto in città è perché ha scelto di farlo Accidenti, ma perché sono rimasto qui? Cosa? Riceviamo un segnale d'emergenza da tutti i canali D'accordo, ci siamo Questa è la nostra ultima battaglia Mettiamocela tutta Forse morirei Ma almeno sapremo che il virus bestia perirà insieme a noi Il momento è arrivato Pronta a distruggere netti siti al mio via, mia preziosa bestiolina 3, 2, 1, ora! È il virus bestia della Grave! E si trova proprio nel cuore di Nat City Coraggio, Black Rose, Mr. Yu Mettiamo in azione il piano Sì, signore! Il mezzo è pronto e armato, comandante Woodman, Skullman, fuoco a volontà! I collettori di energia sono a pieno regime Dritti al bersaglio, comandante, fuoco! L'abbiamo colpito, ma senza nessun risultato Però l'abbiamo fatto arrabbiare Bene, bisogna tenerlo impegnato Secondo me si sta avvicinando troppo Potete accelerare un po', l'importante è che lo attiriate nella zona stabilità Il mio momento è finalmente arrivato Brutto mostro in guardia Oh, ehi! Certo che visto dal vivo è spaventosamente gigantesco Aiuto! XB, portami via di qui! XB! XB! Kusumberman, fine sessione Ti ringrazierai dopo, ora respira Ringraziarti, ma sei aspettato l'ultimo minuto per salvarmi i accidenti a te. Sei tu che hai detto che volevi batterti, Numberman? Eccoci, siamo davanti al Neocolosseo e il virus bestia dovrebbe essere proprio dietro di noi. Scappiamo! Noi siamo pronti, comandante, può dare il via! Attivazione, campo energetico! Campo energetico attivato! Accidenti, staremo consumando la metà dell'energia di Net City. Secondo me ne vale la pena! È la stessa tecnica usata per intrappolare Pharaoman. È in arrivo il colpo di grazia, togliamoci dal raggio d'azione! Ingegnoso! Ora però ci divertiamo! La bestia comincia a danneggiare lo schermo. Resistenza schermo sotto il 40%. Giusto in tempo. Caricate il Delectron. Delectron pronto. Resistenza schermo al 30%. 20%. Lo schermo è stato distrutto. Attivazione Delectron! Lo stiamo colpendo con tutta la forza che abbiamo, nel vero senso della parola. Se non funziona, non so proprio più cosa fare. Non va bene! Non riesco a impedire la distruzione dei suoi dati! Massima potenza! Ma siamo già al limite, signor! Caricate al massimo, ho detto! D'accordo! Ma che resistenza ha questo mostro, che sia davvero immortale! Non possiamo mantenere questi livelli di potenza. Dobbiamo disattivare, signore! Megaman! Ma che ti sta succedendo? Sta per esaurire tutta l'energia. Aumentiamo la potenza! Il Delectron, signore! È finita! È stato un onore lavorare con voi. Oh! Oh! Tutto è perduto. Signore, gli strumenti segnalano una nuova fonte di energia. Ne sei sicura? Sì! E non proviene dal virus bestia, si sta avvicinando sempre di più! Ci mancava anche questa, e ora che facciamo? Oh! È Megaman! Ma che cosa gli è successo? Quel virus avrebbe portato alla distruzione qualunque altro navi, ma visto che Megaman ha... In sé, il megaprogramma? Si è verificato un cambio di stile. Uno stile del tutto sconosciuto, l'assorbivirus! Non ne ho mai sentito parlare. Bene, tutto fila a meraviglia. Non ti resta che divorare Megaman e incorporare il suo megaprogramma come hai fatto con Buzz. E la vittoria sarà mia! Ma da dove prende tanta forza? Non certo dai batterci! Credo di aver capito da dove gli viene tanto vigore. Dalla stessa fonte che alimentava Buzz e il virus bestia. Quando Megaman si stava disintegrando, ha iniziato a rigenerarsi, come previsto dal megaprogramma, nutriendosi di virus. Oh no! E poi non sarà più lo stesso, immagino. Secondo te mi riconoscerà? Non te lo so dire con certezza, ma temo di no. Megaman! E adesso divoralo! Prima Protoman, poi Buzz, ora Megaman! Ormai niente potrà impedire al mio virus bestia di trasformarsi nel perfetto programma di distruzione totale! Ehi, un momento, ma che diavolo succede? Che cosa accade al virus bestia? Non è possibile! Dal suo corpo sta forniscendo qualcosa, signori! No! E' Megaman! Il suo megaprogramma ha sconfitto gli altri due! Il virus bestia è distrutto. Si può sapere perché Megaman non si ferma. Forse non può farlo. Smettila, accidenti! Come osi distruggere tutto il mio lavoro? Come fa a memorizzare tutti quei dati? Megaman! Non riesco nemmeno più a vederlo! Non è possibile! Abbiamo fallito. Il cyber mondo si sta dissolvendo. Deve essere l'energia del virus bestia! No, non questa volta. Temo sia il megaprogramma di Megaman, che è alimentato dai virus e è andato fuori controllo e sta risucchiando tutto quello che trova intorno. E noi non possiamo fare altro che guardare. Beh, io non ho intenzione di arrendermi. Len, aspetta! Vengo con te! Megaman! Len! Sì, sono io. Ti prego, Megaman. Torna tra noi. Non arrenderti. Len! Devi resistere per noi. Non mollare! Megaman! La stretta è troppo forte! È troppo forte! Combatti! Lotta con tutte le tue forze! Megaman! Non devi andare! È finito! È tutto finito! Ehi, guardate! Sta nevicando! Sta nevicando? Ma quella non è neve! Tutto sta tornando come era prima! Ce l'hai fatta, Len! È stupefacente! Tutti i dati che erano stati contagiati dal virus bestia sono tornati normali! L'intero sistema è stato ripristinato! I netnavi distrutti sono tornati! Guardate! C'è anche Frotoman! Bene! Sono tornati tutti tranne Buzz! Non è possibile! Megaman ha ricostruito il cyber mondo! Ma dove sono finiti Buzz e il mio virus bestia? Lo hai disattivato tu, ricordi? Hai lasciato questo corpo vuoto e io me ne sono impossessato! Tu sei Buzz nel mondo degli uomini! Sono in entrambi i mondi adesso e devo tutto a te, Wily! Megaman! Megaman! Sono qui, Len! Grazie, amico! Megaman! Sei tornato! Ha! Ha! Megaman! Per noi, Megaman!